e benvenuti qua sul canale su fablinker music oggi siamo qua per scoprire una nuova cantante e fare una nuova reaction un ragazzo sotto i commenti mi ha consigliato questa artista e sono veramente assai curioso mi son messo un po di roba nella lista guarda più tardi perché così magari riesco a fare anche più reaction e farmi un'idea su questa cantante o artista adesso non so bene se solo cantante o fa anche altro perché non la conosco però sono veramente sono veramente curioso si chiama angelina jordan e oggi andremo a ascoltare seven even e non so cosa aspettarmi onestamente non ne ho la più pallida idea quindi andiamo subito al dunque pop bella voce live should be life should be live with hope oh you know a lot of bitterness there is nothing to do about it don't give up don't give up cause it's right in front of your eyes seven even on my shoulder pounds heavy sometimes i feel all my dreams are slowly fading i see myself in the mirror i wanna love the person looking back at me oh seven even on my shoulders five oh seven sometimes i wanna be powerful gotta find the strength within me sometimes you look for miracles but there's nothing in you sometimes you have to let go and get lost in the moment sometimes you wanna be careful and let go and get lost in the moment sometimes i feel all my dreams are slowly fading i see myself in the mirror i wanna love the person looking back at me die oh seven seven oh my shoulders five oh seven 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 7, 7, 7 Oh, you know I like business There is nothing to do about it Life should be, life should be Live with life Ragazzi, allora, una cosa che mi è, diciamo, subito sorpreso, no, è la voce. Ha una voce, porca miseria, dire meravigliosa è dire poco, ha una bellissima voce, infatti ho visto che ha fatto anche delle cover, no? E sono curioso di vedere anche queste cover a questo punto, questa è la sua canzone e devo dire che la canzone in sé non mi ha entusiasmato particolarmente, cioè nel senso, bella, ok, ma non ascolterei spesso, diciamo, vi dico la verità, ok? Però mi ha sorpreso lei, cioè nel senso, se ascolto questa canzone, se dovesse ascoltarla, sarebbe solamente grazie alle sue capacità, cioè, vocalmente è qualcosa di assurdo, a mio modesto parere, quindi tanta roba. Poi sicuramente andremo ad ascoltare, a fare reaction su altre canzoni sue, perché voglio approfondire questa cantante, perché secondo me merita parecchio, merita veramente parecchio. Ringrazio il ragazzo per il consiglio, grazie di cuore. Se avete altri consigli, mi raccomando, fatemi sapere, che sono disposto ad ascoltare un po' tutto, perché a me piace qualsiasi genere. E questa canzone, a proposito del genere, non l'ho saputa, come dire, capire, nel senso, mi sembrava all'inizio un po' pop, poi, sì, è rimasta un po' pop in realtà, però è quel pop strano, perché sotto c'è il pianoforte, poi c'è un altro strumento che ora non ricordo il nome, l'abbiamo anche visto nel video, ma ora non mi ricordo il nome. Però, porca miseria, cioè è un pop, però, boh, strano, strano. Dovrò sicuramente ascoltare altre sue canzoni per capire bene che genere fa, o se ne ha uno, perché magari fa anche tante cose diverse, non si sa mai. Però per il momento sono piacevolmente colpito, più che altro per lei. Per la canzone che abbiamo ascoltato oggi, invece, vi dico che è bella, ma non mi ha entusiasmato. Che non vuol dire che sia brutta, facciamo chiarezza, non è brutta, mi raccomando, non è brutta. Anzi, è bella, la trovo molto bella, però per i miei gusti personali non mi ha entusiasmato. Però la voce e la cantante non si discutono, non si discutono. Ragazzi, è tutto per oggi, ci becchiamo alla prossima reaction. Ciao!